Le parole sono importanti e a inserire un purtroppo in una frase si rischia di essere malintesi e criticati ed è quello che è successo all'assessore Donazan. Rimarca la vicenda della consigliera regionale Baldin che rimprovera l'assessore dichiarazioni omotransfobiche nella vicenda di Culebianco e nostalgie revisioniste sulla seconda guerra mondiale, chiedendosi come mai il presidente Zaia mantenga l'assessore nell'incarico, dato che il loro pensiero, in molti temi, sembra andare in direzioni opposte. La pietra dello scandalo, una frase scritta in una circolare inviata dall'assessorato all'istruzione alle scuole in cui si voleva celebrare l'eroismo del battaglione alpino italiano nella battaglia di Nicola Ieucca del 26 gennaio 1943. Tale lettera è stata ripresa da tutta la stampa nazionale e l'assessore Donazan ha criticato a più riprese. Ora la consigliera Baldin, soprattutto come cittadina veneta, chiede a Zaia che ritiri la delega a Donazan, in quanto la stessa ha dimostrato più volte inadeguatezza a ricoprire il suo ruolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.